Un cordiale saluto ben trovati da Tupertu, siamo con Pietro De Godens, consigliere provinciale dell'Unione per il Trentino, ben arrivato nei nostri studi. Non possiamo non parlare dell'attualità, ovvero del corso di laurea in medicina e chirurgia, proprio nelle scorse ore è stato dato il via libera, c'è stata soddisfazione di partisan da parte delle forze politiche, perché Trento comunque è capofila e questa si può dire che è una vittoria per l'autonomia? Sicuramente penso che questo è l'importante, che Trento sia effettivamente il capofilo di questo progetto, perché abbiamo sentito in queste settimane non di tutto e di più, anzi la volontà da parte di tutti di partire con questo corso di laurea. Prima si parlava del quinto e del sesto anno, adesso partiamo col primo anno, il sesto per la specializzazione. Io penso che l'obiettivo e il successo sia, come hai detto, trasversale. Tutti noi continuiamo a parlare di sanità, continuiamo a parlare della carenza dei medici, sia dai medici condotti, ma soprattutto degli specialisti all'interno delle nostre strutture. Personalmente, e lo dico con tutta sincerità, non so se questa sia la soluzione. Sentiamo il mondo proprio dei medici, abbiamo sentito che alcuni hanno detto che non è questa la soluzione, dobbiamo incentivare invece le specializzazioni e farle ritornare dopo. Io personalmente non so quale sia stata, quale poteva essere la soluzione o una soluzione diversa. Sicuramente c'è una carenza di medici, sicuramente questo è stato un risultato che alla fine accontenta tutti e io lo vedo come un tentativo per risolvere questo problema, che è un problema vero, e soprattutto il fatto che sia Trento, che il nostro Ateneo, che è un Ateneo riconosciuto a livello nazionale come di eccellenza, sia il capofilo. Quindi penso che alla fine, anche da parte mia, c'è sicuramente una soddisfazione importante e sono convinto che i risultati ci saranno. Non guardiamo in questo momento, ci saranno sicuramente dei costi, ma sono altrettanto convinto che l'aspettativa di avere medicina e chirurgia in Trentino ormai è un'aspettativa che è di lunga data, ne parliamo da anni e anni e anni. Ovviamente le soluzioni potevano essere tante, questa sicuramente è una e una sicuramente anche condivisa. Cambiamo argomento, dalla sanità passiamo al turismo, parliamo della nuova legge sul turismo, c'è stata qualche anticipazione da parte dell'esecutivo provinciale, si parla di razionalizzazione delle APT, di una tassa di soggiorno unica, insomma di tante questioni che sono state messe sul tavolo. Sono in corso naturalmente i confronti, lei quali correttivi apporterebbe? Ma diciamo che io condivido molto l'iniziativa dell'assessore Failoni e della struttura dell'assessorato, perché effettivamente c'era questo dubbio, questo rischio che le APT diventino di nuovo pubbliche. Noi dobbiamo assolutamente trovare qualsiasi forma perché le APT restino private, la privatizzazione è stato un momento importante, ovviamente che deve proseguire su anche una condivisione da parte dell'ente pubblico, una regia della Trentino Marketing, però devono essere gli operatori che dettano le linee delle singole APT. Importante è che nel disegno di legge ci sia questa consapevolezza che tutto il Trentino può essere e deve essere turistico, che ci sia il turista al centro delle aspettative. Noi dobbiamo chiedere al turista cosa vuole, cosa si aspetta e cosa ha trovato di positivo, perché effettivamente la fidelizzazione di un cliente o il cliente che ritorna a casa e ne parla bene delle nostre località è un cliente ritrovato e che può fare sicuramente da amplificatore. Dobbiamo stare attenti però perché era stato fatto un lavoro importante, perlomeno da alcune APT, nel collegare il richiesto come tassa di soggiorno con i servizi erogati. Io di questo ne ero, ne sono e sarò sempre convinto che il cliente non ha difficoltà a sborsare anche i due o i tre euro se in cambio gli vengono dati dei servizi. I servizi sono diversi da località a località, è per questo che io ritengo anche giustificata una tassa diversa. In alcune località, parlo del Garda, il servizio Schibus invernale non esiste, non è un costo. Però invece per le località importanti che fanno un'attività anche in inverno, lo Schibus diventa essenziale. Quindi io sono e l'abbiamo visto, vengo da una zona, la Val di Fiemme, che ha la tassa di soggiorno più alta del Trentino, però non c'è mai stata una lamentela perché la tassa di soggiorno era equiparata a dei servizi importanti, sia estivi che invernali. Quindi io sono convinto che questa sarà una riforma sicuramente importante. va condivisa, parlano di andare in aula a maggio, quindi le categorie economiche adesso sono state coinvolte, ci sono stati in questi giorni incontri con gli albergatori, però va sicuramente definito anche un criterio che io sono convinto che non è obbligatorio essere uguale per tutti. In tal senso si sta modificando anche la legge 6, anche questa secondo me è proprio anche in vista, e questo è quello che ha dichiarato anche l'assessore, lo ritengo quanto mai opportuno, delle Olimpiadi. Quindi il finanziamento, ma soprattutto anche il cercare un innalzamento dell'offerta della qualità delle strutture alberghiere, passi per questa legge, la legge sicuramente che ci darà la possibilità di riqualificare tutte le nostre strutture. Non abbiamo altro tempo a disposizione consigliere De Goden, grazie per essere venuto. Grazie a te e a tutti gli spettatori. Grazie a voi di averci seguito, salutiamo Pietro De Godens, consigliere provinciale dell'Unione per il Trentino, per questa puntata di A tu per tu è tutto, grazie per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima. Grazie a tutti i nostri spettatori.